LUCIANA Luciana, io adesso partirei da una cosa così per scaldarci, una domandina semplice. Una domanda? Se ti senti ancora comunista cosa vuol dire per te essere comunista oggi? Non ci siamo ancora riusciti a fare un posto dove ci sia sia libertà che uguaglianza e mi pare che rinunciarci sarebbe grave e quindi ci provo ancora. Essere comunista vuol dire questo, provarci ancora. Mentre mi perdo nei tanti materiali cinematografici prodotti dal PC, mi domando se c'è qualcosa dell'esperienza di quel partito che potrebbe esserci utile ancora oggi. Noi come comunisti ideologicamente da che parte stiamo? Annetto, da qua! Cioè, è vero, un cinema di tanti per tanti, non un cinema di pochi, di casta per tanti. Grazie! 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 Grazie!